Ne esistono miliardi di canali youtube, questo però penso sia diverso nelle tematiche perché ospita video e canzoni a tema animalista, antispecista, vegano, igienista con le mie canzoni commento divertendomi un sacco i fatti di attualità per esempio l'ultima canzone sul comunicato dell'OMS riguardo al consumo della carne è stata velocissima, in tre giorni è stata montata, girata, arrangiata l'importante è che il messaggio arrivi alle persone in modo che siano informate attraverso questo mezzo eccezionale che è la musica, nella speranza che possano fare questa scelta rispettosa di un'alimentazione e di un modo di vivere etico perciò condividete, iscrivetevi e grazie da parte degli animali, della terra e anche da parte mia saluti